Buonasera e ben ritrovati con TRG Plus. La nostra finestra di approfondimento stasera si occupa di un ciclo di incontri che si è già aperto a Gubbio, la Biblioteca Sperelliana, e che viene promosso dall'associazione Benedetto XVI. Nillo Tempore il titolo di questo percorso che va alla scoperta della vita di Gesù ma attraverso una lettura particolare. Approfondiamo questo tema con alcuni ospiti in studio che salutiamo e ritroviamo a cominciare dal presidente dell'associazione Luigi Girlanda. Buonasera e grazie per essere con noi. A sua sinistra salutiamo Maria Marinangeli, questa sera nella veste di membro dell'associazione Benedetto XVI, che è rappresentato anche dal vicepresidente Lamberto Padeletti. Buonasera e ovviamente grazie. Inillo Tempore si parla della vita di Gesù, Luigi Girlanda, perché questa nuova proposta dell'associazione? Sì, innanzitutto torniamo dopo un periodo di pausa, di meditazione, e questo ha permesso un lavoro molto più approfondito e solitamente noi avevamo l'idea del viaggio, il viaggio con Dante, il viaggio dei filosofi, e a questa volta abbiamo detto se riproponiamo l'altra volta la parola viaggio pensano che siamo fissati. Allora abbiamo scelto una locuzione latina, inillo Tempore, con cui la liturgia cattolica fa iniziare la lettura del Vangelo in quel tempo. Ogni domenica il Vangelo comincia con in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in quel tempo Gesù si recò a Gerusalemme. E quindi vogliamo proprio questo titolo raccontare il tempo di Gesù. È un tentativo di ripercorrere la vicenda storica del figlio di Dio, però mostrandone tutto il contesto nel quale si è svolta, perché spesso e volentieri quando si legge il Vangelo si sentono per esempio nomi di gruppi religiosi oppure parti del Tempio di Gerusalemme che uno non conosce. O dà per scontato. O dà per scontato. E quindi diciamo c'è ancora la dimensione del viaggio, perché è un viaggio nel tempo stavolta, cioè vogliamo riportare i nostri gentili ascoltatori alla Palestina dell'epoca di Gesù, ricostruire proprio quel mondo che ha visto incarnarsi il figlio di Dio sulla terra. C'è un testo che fa del riferimento Lamberto Padeletti a questo cammino, a questo percorso ed è quello che ispira questa serie di appuntamenti. Ne vogliamo parlare? Sì, questi appuntamenti si ispirano a un classico della letteratura biblica cattolica che è la vita di Gesù Cristo dell'abate Don Giuseppe Ricciotti. E noi ne abbiamo voluto fare una, abbiamo voluto rileggere i Vangeli alla luce di quest'opera anche per rendere omaggio a questo uomo, a questo uomo di chiesa, a quest'uomo di Dio, che ha avuto anche legami importanti con Gubbio, quindi una sorta di ogubino d'adozione perché il suo titolo di abate recita così, abate di San Secondo di Gubbio, perché era un canonico lateranense e a San Secondo vi è tuttora una comunità di canonici lateranese. D'altro è un testo scritto qua. Esatto, scritto in una cameretta del convento di San Secondo, molti, il suo biografo, l'abate Guglielmi, dice che ha scritto molta parte dell'opera Gubbio perché era un luogo a lui congeniale perché dava serenità, tranquillità, soprattutto in un momento lo ha scritto nel pieno della seconda guerra mondiale, quindi in un momento particolarmente burrascoso. E il Ricciotti che cosa fa con questa opera? Non scrive il Quinto Vangelo ovviamente, ma ripercorre, ricostruisce il contesto, il contesto in cui si è svolta la vicenda storica di Gesù Cristo e tenendo bene unite le due figure, il Gesù della storia e il Cristo della fede, quello che non era stato fatto dalla critica biblica dell'Ottocento e del Novecento che aveva separato questi due aspetti della vita di Gesù, il Gesù della storia e il Cristo della fede, e invece Ricciotti li riporta ad unità, come deve essere, perché la tradizione cattolica parla di Gesù Cristo, quindi l'uomo Dio che è venuto sulla terra per la salvezza degli uomini. Gli appuntamenti non li abbiamo ricordati, sono tutti giovedì. Sono tutti giovedì di novembre praticamente, poi l'ultimo, l'ultima serata sarà invece mercoledì 6 dicembre, sempre a Biblioteca Sperillagna alle 21. Per non andare incontro ad altre manifestazioni che il 7 dicembre sarebbero, diciamo, incompatibili. Maria Marinangeli, c'è un aspetto di percorso didattico anche innovativo rispetto a questi incontri. Usciamo dal ruolo di dirigente scolastica, ma in qualche modo restiamo legati alla didattica. Sono molto grata all'Associazione Benedetto XVI che mi ha consentito di poter recuperare e rispolverare il mio vero essere, che è quello di maestra, quindi quello di insegnare. Questo ciclo di conferenze è un ciclo anche divulgativo, per cui si è reso necessario il dover lavorare anche con materiale che sia particolarmente innovativo ma anche gradevole, sia alla vista che al tatto. Per cui noi abbiamo ricostruito il percorso storico proprio della vita di Gesù a partire da piccole nozioni di geografia sulla Palestina. Noi oggi conosciamo per esempio il muro del pianto che è a Gerusalemme, ma il muro del pianto è una porzione di un tempio che ha avuto una sua storia dai primordi, quindi dal tabernacolo costruito come tenda in un accampamento ai tempi di Le Davide fino all'ultima distruzione che ha lasciato intatto questo piccolo muro del pianto. Quindi abbiamo cercato di far riprodurre il modellino del tempio di Gerusalemme, avremo nelle serate successive altre modalità anche espressive, riusciremo a tirar fuori, possiamo dire, qualche piccola sorpresa, qualche anticipazione. Anche il momento della sepoltura di Gesù avrà una sua specificità nella rappresentazione. Quindi abbiamo unito il materiale didattico che è quello solito delle clip video, delle slide, ma anche cose proprio fisicamente tangibili da vedere, i costumi del sommo sacerdote, del popolano, di un milite romano che sono stati concessi dalla turba di Cantiano. Ecco, abbiamo messo insieme tante modalità proprio per cercare di divulgare al massimo questa storicità di Gesù e la veridicità della storia della vita di Gesù. Se vogliamo andare a rivedere un pochino nella somma sicuramente importante, ingente, l'iniziativa dell'associazione, un pregresso c'è, un capitolo. Ricordo il processo di Gesù che fu un incontro che analizzò quel passaggio non tanto e non solo da un punto di vista evangelico, ma soprattutto anche giuridico addirittura. Insomma, avete fatto le prove. Vedo che il direttore è molto attento, proprio per questo. Ancora buona memoria, non per molto, ma insomma ancora. E noi siamo partiti proprio da quell'esperienza, proprio ripercorrendo un po' la storia della nostra associazione, che ormai ha dieci anni che propone, diciamo, delle iniziative culturali. Ci siamo focalizzati su quell'iniziativa del processo di Gesù e abbiamo detto perché non ampliarlo e fare, riproporre la stessa metodologia con altre accattivanti soluzioni didattiche, ma ampliarla tutta la vita di Gesù. E questo è coinciso appunto con la lettura della vita di Gesù Cristo del Ricciotti di cui parlava l'amico Lamberto e quindi è nato questo progetto. Ripeto che ci è costata molta fatica, molta preparazione, non solo per il materiale didattico, la costruzione dei vari modellini, pensare come strutturarlo, perché anche dal punto di vista proprio delle serate è molto più dinamico rispetto a prima, perché è un vero e proprio salotto televisivo. Ognuno di noi ha il suo microfono, quindi si può muovere liberamente sul palco, c'è la modalità anche, diciamo, della scenografia teatrale, quindi visivamente ricostruire il mondo di Gesù. Le serate sono cinque in tutto, due ne abbiamo già fatte. La prima è stata appunto, come spiegava Maria Marinangeli, sulla Palestina dal punto di vista geografico, storico, politico, amministrativo e religioso. La seconda serata tutta dedicata al Tempio e da adesso in poi, da giovedì prossimo, entrerà in scena il protagonista, perché questa è stata la lunga preparazione, come lo stesso Ricciotti fa nel suo Vita di Gesù Cristo, che dedica le prime 200 pagine solo a ricostruire l'ambiente dove si è svolta la vicenda. Da giovedì prossimo entra in scena il protagonista con i Vangeli dell'infanzia e quindi esamineremo attraverso i personaggi che l'hanno caratterizzata tutti i primi giorni di vita di Gesù e l'antefatto. La quarta e penultima serata sarà la luce del mondo, cioè la vita pubblica di Gesù, i punti salienti, il suo rapporto per esempio con i miracoli, il suo rapporto con la preghiera, il suo rapporto con i farisei, i sadducei, le dispute che ha avuto. E l'ultima serata ripercorreremo l'ultima settimana di vita di Gesù, il 6 dicembre, l'ultimo appuntamento, il processo, quindi riprenderemo in parte quella nostra iniziativa già proposta e poi tutta la parte invece anche della risurrezione che non avevamo toccato e con quella modalità che diceva Maria Marinangeli di ricostruire proprio come è stato sepolto Gesù, come erano le pratiche funerarie all'epoca di Gesù e quella specifica di Gesù per vedere come è venuta fuori per esempio la Sindone, come si è formata e quindi vedremo proprio visivamente tutte queste cose. Quindi non è un semplice raccontare la vita di Gesù ma è un voler fare un viaggio, un immergersi nel tempo, immergersi nella cultura ebraica che era la cultura di Gesù e vedere la grande novità che ha messo Gesù Cristo e il contesto storico nel quale il Fio di Gesù si è incarnato perché appunto Dio sceglie un momento storico ben preciso per venire a salvarci e questa è la prospettiva di fede ovviamente che non manca mai nei nostri incontri. Io ringrazio ovviamente per questa anteprima anche se in realtà due appuntamenti ci sono stati ma comunque ci sono state diverse anticipazioni dell'associazione Benedetto XVI, ovviamente la nostra emittente resta sempre disponibile anche per divulgare a posteriori poi questi incontri come è stato fatto per il processo di Gesù, per il viaggio dei filosofi e per tante altre esperienze nel solco di una collaborazione che c'è sempre stata. Ringrazio Luigi Girlanda, Lamberto Padeletti e Marinangeli dunque appuntamento per i prossimi due giovedì e quindi in conclusione per mercoledì 6 dicembre invece con TRG Plus ci vedremo prima già da domani sera sempre alle ore 21 in replica il giorno dopo alle 13.30. Grazie e buonasera. Grazie a tutti.